salve amici del canale oggi spacchettiamo questo questa tela mi era arrivata qualche giorno fa non ho avuto il tempo purtroppo di darci un'occhiata e vediamo un po come come è arrivato se integro oppure se c'è qualche problema siccome ho visto che c'è un piccolo strappo laggiù e una botta qua speriamo che non ci sia sfondato è una tela abbastanza grande come vedete mi è arrivata per un lavoro che mi è stato commissionato quindi non so nemmeno com'è perché non l'ho ordinato io il supporto ma mi è stato appunto mandato quindi è una sorpresa proprio per questo ne condivido diciamo così il risultato con voi però nel frattempo mi accendo un piccolo incenso profumare un po la stanza che spia di i vapori di vapori di vernice e cose vado tengo aperto ma non sempre è sufficiente mitigare po tutti questi odori particolari noi non accendino vediamo ecco fatto ok questo è una parte del mio studio questa è una parte del mio studio la parte diciamo che guarda a a nord e tanto per dire per cui qui dentro quest'armadio che vedete al mie spalle questo verde pieno di tele di aggeggi cose varie e quindi è un deposito praticamente questo è un cavalletto che è abbastanza comodo perché lo posso chiudere da una parte però non è molto molto stabile ora per questo per questa tela probabilmente prenderò cavalletto proprio da studio un po più solido quindi questo per il momento è qui ma non credo che lo utilizzerò per questa volta caso mai poi una volta che lo spacchettato ce l'appoggiamo come dicevo ciò se si riesce a vedere bisogna che giro un po con la la web ecco fatta ok ha girato un pochino questa web non si vede tutto ma insomma e qui ci sono altre tele di altre misure come vedete questa 50 per 60 e che sono i famosi i famosi cunei ecco questi famosi cunei dove sono andati ecco per poi poterla irrigidire questa è una tela chiodata di solito sono da preferire se insomma vi capita anche di fare un lavoro su commissione di prendere queste chiodate non quelle spillate quelle spillate in genere sono uguale però sono da preferire a quelle appunto le chiodate sono migliori se non altro farà un effetto più professionale se così si può dire quest'altra invece è una questa è una tela quella con i bordi grossi come vedete ecco qui c'è un piccolo rinforza che vi ci sono i famosi cunei e quindi una tela che di cosa ho detto ma tira 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 cosa c'è scritto a 50 per cento e questo è un 50 per cento quindi e poi ce ne ho una discreta scorta ecco qua tutto pieno è detto quando mi capita a volte ha sospetto questo questo affare qui vediamo come mai forse ecco un po forte la preso male prendesse potuto vediamo un po se legge ok di solito quando mi capita delle occasioni a volte delle sventi oppure un prezzo favorevole ne prendo un po' dipende anche da quanti soldi mi ritrovo a disposizione ma in genere per queste cose trovo sempre qualche spicciolo che mi può essere di utile può essere utile e qui insomma fa parte un po' anche della mia vita no queste cose qui poi ho tantissime cose che probabilmente non userò mai però mi piace averle mi piace poter dire ah ce l'ho ce l'ho allora questi le vale mettiamo le vale ok allora prendiamo facciamo posto vediamo un po' questa tela grande abbiamo questo la specie di fumaiolo ecco prendo il tavolino e prepariamo ecco facciamo questa tela vediamo questo pacchettone qui non buttare ci tutto allora che ci sarà che ci sarà oddio qui hanno fatto hanno preso una scar due scatole praticamente una dentro l'altra per poterci infilare questo questo quadro la facciamo così tagliamo vogliamo da una parte vogliamo tagliare tutto ok ecco fatto non è comodo spacchettare una cosa così così grossa eh facciamo un'altra bella cosa apriamo anche i bordi ecco fatto così va rimesso a piedi no facciamo così ecco allora qui c'è ma sembra che siano superficiali dai non ci dovrebbero essere problemi vediamo un po' allora eccolo qui c'è già un punto che è venuto via questa questa come vedete è una tela coi punti qui non è che hanno fatto proprio un bellissimo lavoro eh hanno messo il tessuto doppio invece di tagliarlo hanno pom 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 sparato un po' alla cattiva non è proprio una grandissima qualità eh qui poi va ripreso ok anche qui questo cunio l'hanno messo un po' troppo fuori un po' troppo dentro ed è uscito quindi andrà anche ripreso che fa una bruttissima impressione allora facciamo così ecco vedete non so se si nota ecco vedete l'hanno spinto troppo il cuneo ed è uscito dalla parte opposta e quindi fa questo bozzo che non è proprio il massimo e qui hanno raddoppiato troppo le vedete i tessuti invece di tagliarlo l'hanno semplicemente sovrapposto e anche qui stessa cosa non è una grandissima anche qui c'è un pezzo di cuneo fuori la tela tessuto di media qualità non so cosa costa quindi non so nemmeno chi l'ha fatto e quindi non non sto facendo né buona né cattiva pubblicità vediamo qui se c'è scritto qualche cosa su questa boda di accompagnamento carta riciclata mi vivi va cornici s pesa 7 kg tutto 7 kg va bene non voglio dire la ditta che l'ha costruito perché insomma no non voglio fare né pubblicità e ne avere seccature quindi va bene così quindi allora facciamo un'altra cosa devo avere un martellino qui ecco qua ecco qua qui c'è il martello non è che l'ha non chiodata no sembra di no, vediamo di prendere qualcosa, ho il figlio del microfono, rompiamo un po' le scatole perché è lungo e rimane da tutte le parti, vediamo se c'è un pezzettino di legno, un pezzettino di legno da battuta, proviamo con questo pezzetto, voglio vedere se ce la faccio a far rientrare questa, questo pezzetto che non mi piace, ho messo proprio bene, è un triangolino di compensato, lo metta per bene, che così non va assolutamente bene, non si muove, non si muove, lo farò con calma, con le pinze, lo devo levare perché c'è questo bozzo che veramente, allora cosa ci farò, cosa ci farò, è un disegno che mi hanno mandato, per cui disegno privato, quindi non ve lo farò vedere, ecco, quindi mi dispiace per la vostra curiosità, ma non posso per motivi di privacy, però mi interessava farvi vedere più o meno come è fatta una tela di una certa dimensione, come è preparata dietro, vedete ci sono, a parte questi cuni, qui il cune ho messo male, poi ci sono dei rinforzi, il telaio mi sembra abbastanza ben fatto, mi sembra, però l'inchiodatura non è che sia qui, vedete addirittura bucato il tessuto, quindi questi due qui stanno lì proprio pelo pelo, e non è il maso, qui addirittura ha strappato la tela, insomma, e qui hanno raddoppiato troppo, come dicevo, quindi lo taglierò, leverò un po' di punti, poi lo riprendo, e anche qui, visto che non esce questo cuneo, lo tenerò via i punti e lo riprendiamo, me l'hanno mandata questa tela e quindi non ho potuto controllare come né l'azienda né il tipo di costruzione, però queste cose qui vanno controllate soprattutto se volete insomma che il vostro lavoro sia di una certa qualità, a parte il lavoro finito, perché poi il lavoro ha una certa importanza anche nella costruzione proprio del supporto, della cornice, della tela, a terra, ecco, così, eh sì, ci la hanno messa proprio a cattivo, facciamo una cosa, qua siamo a questo punto, in mezzo già strappato, quindi non ti è rapiditato, vedete, ha proprio rotto il tessuto, non è una bella cosa, ecco fatto, vedete qui non conviene nemmeno levarlo e richiedarlo perché hanno fatto proprio un lavoro non proprio ottimale ora vi faccio vedere allora se si riesce a vedere spero di sì vedete la niente alla bisogna che cambio un po di inquadratura eccolo che ho cambiato un po inquadratura vi faccio vedere cosa hanno fatto vedete non hanno fatto combaciare bene gli angoli vedete c'è questa sovrapposizione e questo funeo è riuscito e da questa bruttissima impronta alla tela siccome sono queste tele a vista cui non è che ci andrà poi sopra una cornice eccetera e questo affare qui questo bozzo è bruttissimo ora siccome la tela non è proprio telaio non è messo benissimo non mi conviene mettermi a scollare ogni cosa mi conviene prende e togliere proprio la bozza ecco fatto poi riprendo la chiudatura e sistemiamo il tutto vediamo un po di notte gli altri la tela e come dicevo a morte la spillatura da già l'idea di un qualche cosa di meno proprio eccellenza qualità ecco questo pezzettino che lo vediamo e che lascia questa punta non proprio perfetta ecco fatto poi si taglia se non avviene questo questo bozzo di roba visto questo montarozzo che non è per niente bello ora vabbè questo non è vero voglio far vedere un'altra cosa poi chiudiamo questa piccola cosa questa è la tela che è stata mandata ora vi faccio vedere invece una tela che ho fatto io quindi ora la tiro fuori ecco vi faccio vedere questa tela che ho preparato io con un vecchio lenzuolo come spesso vi ho fatto vedere ecco questa è una tela autocostruita è un lenzuolo un vecchio lenzuolo di una certa grammatura e anche consistenza non è stata ancora preparata è soltanto lenzuolo lenzuolo quindi è ancora tutto da da esplorare come possibilità come dicevo non ha i classici cunei ma sono fissi quindi una volta fatta questa sarà la sua attenzione quindi già l'ha fatto vedere altre volte poi casomai si ripeterà qualche piccola esperienza va bagnata prima di fare comunque ci sono dei video in cui ho presentato diciamo l'esperienza in maniera più precisa e puntuale quindi se vi interessa la cosa potete trovare di che vedere ecco questa naturalmente essendo autocostruita costruita costruita con legno buono una certa consistenza e ha un suo valore aggiunto in quanto di solito una cosa commerciale anche se fatta bene è sempre una cosa commerciale una cosa che è stata fatta da voi bene no una cosa tutta storta che sta su con gli spilli una cosa fatta bene in maniera diciamo professionale anche se naturalmente artigianale acquista come dicevo un valore in più il tutto perché c'è questo apporto materiale dell'autore dell'artista insomma di chi mette mano alla sua opera quindi è un tutt'uno fa parte di un ciclo completo quindi se avete intenzione di fare qualche cosa importante crearvi un vostro stile un vostro modo di essere di fare riconoscibile o meno ecco pensate anche alla costruzione dei supporti che non è una cosa marginale tantissimi pittori del passato e anche del presente spesso fanno questa operazione di prepararsi proprio i supporti perché è una cosa che dà da importanza alle vostre idee perché a volte proprio facendo il supporto preparandolo secondo le vostre esigenze riuscite a ecco a vederlo a crearlo in maniera più completa a me piace e non è una questione di risparmio perché a volte si risparmia poco e a volte anche niente perché se considerate il tempo il materiale e tutte le belle storie che ci mettete intorno il risparmio veramente a volte una chimera insomma una cosa che in pratica non esiste questo nastro diventare vecchio peso il sole strano e anche di buona buona marca strano perché non è vecchio vediamo queste spillette di mezzo se no mi ritrovo tra i piedi ecco fatto adesso anche la costruzione delle tele dei supporti di tutto ciò che riguarda l'arte fa parte anche del ciclo di studi alle accademie non soltanto nei vari corsi ma proprio come come apporto all'opera iniziendo come detto si parte sempre dalle piccole cose da come si preparano i colori da come si si fanno i pennelli da che tipo di per usare insomma e su su fino al quadro finito il quadro finito poi alla fine è una piccola cosa è quella che si vede di più naturalmente però è anche una cosa che alla fine è una conseguenza di tutte le preparazioni fatte altre volte ho detto che sono interessanti anche le cose che sono dietro dietro al quadro perché non di rado dietro a un quadro si trovano scritte che so poesie pensieri dediche e disegni o altri disegni quindi è un altro modo un'altra cosa da scoprire a volte bisognerebbe avere la possibilità di mettere che so delle cerniere ai quadri per poterli girare e vedere cosa c'è dietro io mi ricordo che quando avevo la possibilità di andare spesso nei musei specialmente a Firenze l'inverno quando non c'era nessuno io parlo di diversi anni fa ora probabilmente diverto saranno più attenti ci saranno anche le camere ma insomma io mi infilavo dietro ai quadri a volte li spostavo per vedere se dietro c'era qualche cosa o addirittura mi mettevo di traverso per vedere se c'erano delle degli aggiustamenti dei ripensamenti dietro dietro davanti il quadro del quadro stesso se c'erano delle cancellature e poi dei rifacimenti perché si notano no? perché c'era una materia quindi si vedeva la mano era da una parte poi è stata cambiata ammessa da quell'altra perché così forse il pittore e l'artista ha pensato a una modifica della prospettiva non so del movimento chi lo sa insomma e quindi è interessante anche la parte che non si vede del quadro oltre quella che si vede beh detto questo io mi insegnate a parlare e finisco domani mattina e alla prossima statemi tranquilli salute e alla prossima ciao